Una città che soffre per turni di erogazione che saltano mentre si continua ad assistere a copiose perdite lungo la condotta in tutto il territorio, non solo nel centro abitato. L'amministrazione comunale di Sciacca da settimana ha annunciato di voler sostituire Aica in tale inadempienza andando a compensazione con quanto dovuto dal comune. La richiesta è stata avanzata, si attende ancora la risposta, ma è bene non illudersi. La somma a disposizione per l'apposito capitolo istituito con la variazione al bilancio approvata lunedì scorso dal Consiglio Comunale è di 150 mila euro, mentre gli interventi che sarebbero necessari sono circa 500. Lo evidenzia l'assessore al bilancio Fabio Leonte. Sulla base dei conti fornitici dall'ufficio di ragioneria, l'ATI ha un credito nei confronti del comune, fatte le dovute compensazioni, di circa 150 mila euro. Noi in data 8 agosto abbiamo presentato istanza all'ATI affinché potessimo utilizzare in compensazione queste somme in maniera totale, in maniera parziale, per un periodo temporaneo fino alla chiusura di questo periodo, fino al 31 dicembre che c'è l'emergenza. Abbiamo fatto un'istanza ampia affinché ci fosse data una risposta positiva, che attendevamo da un giorno all'altro, cosa che non è avvenuta perché AICA ha fatto dei rilievi sugli importi della compensazione, cosa che abbiamo riscontrato qualche giorno fa. Pensiamo ad un esito positivo di questa vicenda perché uno degli obblighi di AICA è quello della manutenzione, non potendo riuscire ad effettuarla perché non ci sono le ditte che partecipano ai bandi di gara che fa AICA, invece noi sosteniamo che se il committente, il comune di Sciacca, si riescono a trovare le ditte che possono fare questi lavori. Quindi la compensazione riteniamo che ci sarà concessa a seguito anche di una convenzione che sarà stipulata tra l'AICA e il comune, perché ricordiamo sempre che soltanto AICA può mettere mani nella rete idrica, quindi può intervenire nella rete idrica. Chi dice intervenite lo stesso, indipendentemente dall'autorizzazione, dice il falso, perché scatterebbe immediatamente la denuncia nei confronti di chi interviene, perché interviene su una proprietà che non è tua. Quindi pensiamo che si risolva più presto il problema. La variazione che è stata votata qualche giorno fa in Consiglio Comunale serve per accelerare i tempi, nel senso che nel momento in cui avremo la disponibilità alla compensazione da parte di AICA, è già pronta la variazione e possiamo procedere più celermente. Senta, ma 150 mila euro sono niente rispetto alle tante perdite idriche della città? Cioè o ne l'encomi, pare... Sono niente perché le perdite idriche sono numerosissime. Quante sono quelle che costano al Comune? Ma si parla di 500 interventi da poter fare, però è evidente che ci sono interventi piccoli, ma che comunque consentono di evitare la fuoriuscita dell'acqua. E ci sono interventi più grossi che con 150 mila euro. Il criterio che si pensa di seguire qual è? Vedremo, vedremo. Io sarei dell'idea di fare tanti interventi piccoli piuttosto che uno grosso, che sarà importante ma non risolve poi il problema complessivo. Infatti, secondo me, a parte l'importo che è limitato, l'intervento da fare è quello di farci dare soldi dalla protezione civile, perché visto che Cocina è così bravo a dare responsabilità ai sindaci piuttosto che pensare che lui stesso è la protezione civile e che potrebbe intervenire direttamente. E questa richiesta il Comune di Sciacca l'ha fatta in Pinnatarla? Non l'ha fatta, ma io credo che ci debba essere fatto, comunque ci debba essere un incontro. Nel Consiglio Comunale, dove è stata approvata la variazione di bilancio, si è parlato anche di problemi di AICA e si è anche parlato della ipotesi di una task force della quale faranno parte i soggetti di opposizione e di maggioranza, che secondo me deve avere il compito principale di andare a parlare proprio con Cocina, quindi la protezione civile, per poter farsi finanziare un importo notevole che consenta di fare gli interventi sulle perdite più grosse, perché diversamente faremo poco, qualche cosa, ma è poco, troppo poco rispetto alla situazione che c'è.